Bene, procediamo ora con il paragrafo sulla politica di Augusto. Dare importanza ai culti religiosi per unire i cittadini. Augusto cambia le categorie sociali. I cavalieri diventano più importanti, mentre i senatori hanno meno potere. Egli ha un forte legame con la plebe, ordina di distribuire il grano per i nullatenenti e dà molto potere ai liberti, gli schiavi liberati. Ecco, allora vediamo un attimo. Augusto, dopo un periodo molto lungo di guerre civili in Roma, vuole inaugurare un nuovo periodo, migliore, di pace e ottimista. E quindi, per farlo, decide di fare delle scelte. Innanzitutto diminuisce il numero delle legioni. Le legioni sono, si potrebbe dire, i battaglioni, cioè le unità militari dell'esercito romano. Le diminuisce, diminuisce l'esercito e ai soldati congedati, quindi che smettono di fare il soldato, i veterani, i soldati anziani, che combattevano da tanti anni e vanno in pensione, dà in dono delle terre. Quindi anche i soldati sono contenti e possono andare in pensione, diciamo così, un po' prima e ottengono delle terre per vivere in modo tranquillo e pacifico. Una seconda decisione, allora, la prima decisione non è niente di nuovo rispetto a quello che aveva già proposto Cesare e altri prima di lui del Partito Popolare. La seconda decisione è quella di annullare i debiti dei cittadini privati verso lo Stato, quindi condona a tutti i debiti che potevano avere verso lo Stato e quindi i cittadini rimangono un pochino più ricchi, benestanti. E in cambio, per eliminare la disoccupazione degli altri cittadini che appunto erano rimasti senza più risorse dopo anni di guerra e per risollevare anche un po' il morale dando lavoro, inizia molte opere pubbliche. Chiaramente può permettersi di fare questo perché ha accumulato ricchezze. L'impero romano da secoli va allargandosi e ogni volta che conquista delle terre, chiaramente si arricchisce sia di schiavi, i prigionieri di guerra, sia delle ricchezze delle terre stesse che devono pagare dei tributi, delle tasse a Roma. Quindi ha i soldi per fare molte opere pubbliche e abbellire la città di Roma. Inoltre inizia a dare più importanza di quanta non si usasse dare prima alla religione, la religione tradizionale, perché è un aspetto della cultura, della tradizione di Roma che fa ritrovare la propria identità ai cittadini romani e li unisce, li fa sentire romani, orgogliosi di essere romani e delle proprie tradizioni. Augusto poi cambia anche le regole sociali, aiuta a diventare più ricca, più importante, la classe sociale dei cavalieri, gli equites in latino, che erano coloro che non possedevano terre ma erano comunque ricchi perché erano commercianti, artigiani o grandi commercianti. Quindi li rende più importanti, mentre toglie un po' di potere ai senatori, quelli che possedevano le terre erano i nobili più antichi e i più conservatori. In questo modo i cavalieri gli sono riconoscenti e appoggiano molte delle sue scelte politiche. Inoltre, come Cesare, mantiene un fortissimo legame con la plebe, con il popolo e fa dei grandi favori al popolo. Distribuisce grano per chi non ha niente, quindi da da mangiare e dà anche molto potere ai liberti. I liberti erano una categoria particolare a Roma, erano gli schiavi liberati, che appunto diventavano cittadini liberi, conservando comunque appunto il nome di liberti. I loro figli sarebbero stati poi liberi a tutti gli effetti, loro dovevano ogni tanto compiere qualche azione o attività di ringraziamento, diciamo, nei confronti del loro ex padrone, ma per il resto erano completamente liberi. Molti di questi liberti erano anche persone colte, istruite, addirittura molti erano anche già da schiavi, facevano i maestri, i precettori, si dice, nelle famiglie più ricche di Roma. E a questi liberti, a questa categoria, Augusto affida anche parte dei lavori burocratici e amministrativi di Roma, perché, appunto, essendo riconosciuti in questo modo da Augusto, gli sono così più fedeli e più affezionati. Per controllare l'impero, Augusto nomina nuovi funzionari, chiamati prefetti, e divide le province in due categorie, province senatorie, governate da un proconsole, e province imperiali, controllate direttamente dal principe, in questo caso da lui stesso. Infine, Augusto introduce una doppia monetazione. L'imperatore batte le monete d'oro, aurei, ed argento, denarii. Il senato batte quelle di rame, sesterzi. Augusto stabilisce un valore altissimo per l'aureo, e svaluta il denario. Ecco, Augusto quindi fa delle divisioni tra i poteri del principe, cioè i propri, e quelli del senato. Anche nella divisione delle province, le province imperiali sono le più importanti dal punto di vista strategico e delle risorse rispetto alle province senatorie, quindi affidate ai senatori. e la stessa cosa accade per la moneta, introduce una doppia moneta. L'imperatore può emettere, battere monete a volere emettere, mettere sul mercato, mettere in circolazione monete d'oro, si chiamavano aurei, ed argento, denarii, quindi monete di metallo prezioso che hanno un grande valore. E il senato invece può decidere di mettere in circolazione i sesterzi, che erano la moneta tradizionale di Roma, in rame, che però perdono sempre più importanza dal punto di vista economico. Andiamo ora a leggere il paragrafo sulla pace augustea. Dopo le guerre civili, Augusto promette la pace. Per i romani, pace significa rafforzare l'impero attraverso le guerre. Sotto Augusto ci sono molte spedizioni per consolidare i confini dell'impero. Allora, fermiamoci un attimo. Quindi, è vero che Roma, sotto Augusto, vive un grandissimo periodo di pace, la cosiddetta Pax Augustea, pace di Augusto. Però, questo non vuol dire che non ci fossero guerre, anzi, pace vuol dire che l'impero diventa più solido e sicuro, perché le guerre sono combattute, sì, ma non dentro l'impero, tantomeno in Italia, come era successo prima, con le terribili guerre civili. Bensì, le guerre sono combattute ai confini dell'impero, per renderli più solidi, per consolidarli, rinforzarli. Le popolazioni germaniche, che vivono oltre il fiume Reno, si ribellano e sconfiggono i romani a Teutoburgo, nel 9 d.C. Sul Reno, i romani stabiliscono il Limes, la frontiera dell'impero. Ecco, di molte battaglie che furono combattute in questo periodo, è rimasta famosa quella della selva di Teutoburgo, del 9 d.C., perché i romani subirono una pesantissima sconfitta, tant'è che poi decisero di non andare oltre, nella zona appunto dei Germani, e stabilirono il confine, lo chiamavano Limes, cioè il limite, proprio sul fiume Reno. Augusto vuole celebrare le sue imprese attraverso opere pubbliche, come templi e monumenti, opere d'arte e letterarie. Il suo amico Mecenate riunisce grandi poeti e letterati, come lo storico Livio, i poeti Orazio e Virgilio, quest'ultimo autore dell'Eneide, un poema grandioso sull'origine di Roma. Ecco, allora questa parte è molto importante, la vediamo poi nell'approfondimento. Allora, Augusto vuole celebrare la propria persona, vuole celebrare se stesso, vuole che tutti riconoscano la sua importanza, la sua importanza e l'importanza delle imprese, delle azioni che ha compiuto. Come lo fa? Allora, in primo luogo, facendo delle opere pubbliche, quindi opere pubbliche possono essere strade, fognature migliori, terme, edifici rappresentativi e quant'altro. Ad esempio, templi e monumenti, ne vedremo alcuni nell'approfondimento. E poi usa anche quella che oggi chiameremo propaganda, cioè si fa pubblicità. E come lo fa? Con i mezzi che aveva a disposizione, cioè le opere degli artisti e degli scrittori e dei poeti. E c'è un suo amico che si occupa della pubblicità, diciamo, della propaganda augustea dell'imperatore Augusto. Questo suo amico si chiama Mecenate, è un ricco signore di Roma che riunisce intorno a sé, dando loro dei soldi, delle case, dei favori, riunisce appunto grandi artisti, soprattutto poeti e scrittori. Ad esempio, Livio, Tito Livio, che è uno dei più importanti scrittori di storia, storici di Roma. Poi, Orazio e Virgilio, che sono poeti importantissimi. E soprattutto Virgilio, che è l'autore delle Neide, che è un poema, cioè un'opera in poesia lunghissima, che racconta le storie, le leggende dell'origine di Roma, glorificando anche l'imperatore Augusto. Andiamo a vedere ora il paragrafo sulla morte di Augusto. Nel 14 d.C. Augusto muore all'età di 77 anni. La moglie, Livia, lo convince a lasciare l'impero a Tiberio, il suo figliastro, figliastro perché non era figlio di Augusto, ma di Livia, avuto con un precedente marito. In questo modo ha origine la prima dinastia degli imperatori romani. Va ricordato che tutti gli altri eredi di Augusto, più vicini a lui per linea di sangue, erano morti nel frattempo. Quindi Livia riesce a convincerlo a lasciare l'impero a Tiberio. E in questo modo abbiamo un uomo che decide di lasciare il comando a un altro uomo, suo parente, quasi diretto, e così ha origine la prima dinastia. Chiaramente non è più una repubblica, ma un sistema ereditario in cui uno eredita dal padre o da parente prossimo il comando. Dopo la sua morte i romani proclamarono Augusto Divus, cioè vuol dire divino. Gli danno onori come se fosse un dio dopo la morte. Attenzione, non in vita. Rendere onori divini a una persona viva era sempre impensabile per i romani. I suoi successori sono considerati come divinità. Questo atteggiamento di onorare come un dio un imperatore vivo prenderà poi piede più tardi nell'impero. Gli imperatori governano un impero immenso di 55 milioni di abitanti, il più grande esistente in quel periodo storico, con un'estensione di più di 3 milioni di chilometri quadrati. Grazie a tutti.